E' partito questa mattina dalla stazione di Alessandria il treno inaugurale della compagnia ferroviaria Renaways, la prima azienda privata che tenta di spezzare il monopolio di Trenitalia. Un momento di festa rovinato da un fax dell'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari che ha imposto al convoglio di toccare solo le stazioni di Torino e Milano senza fermarsi in quelle intermedie. Una doccia fredda a pochi giorni dell'apertura del servizio al pubblico prevista per lunedì, secondo il documento, lo svolgimento del servizio richiesto da Renaways comprometterebbe l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività delle ferrovie dello Stato titolari dei contratti con le regioni Piemonte e Lombardia. Il servizio richiesto da Renaways non dovrebbe quindi avere carattere regionale per non interferire con i servizi per i quali è previsto un contributo pubblico, una presa di posizione che giunge dopo numerosi rinvii e discussioni con Trenitalia destinata pertanto a suscitare nuove polemiche. La cronaca c'è anche una cinquantenne alessandrina tra gli arrestati per la rete di usura scoperta dai finanzieri del nucleo tributario della polizia di Alessandria nell'Alessandrino, nell'Astigiano e nel Veronese. Si tratta dell'ex impiegata di una ditta appena fuori città chiusa da circa due anni e attualmente in liquidazione che si occupava di rifiuti e rottami ferrosi. Aveva una modesta dichiarazione dei redditi in linea con il suo stipendio, ma una segnalazione ha convinto le fiamme gialle ad analizzare il suo conto bancario, il cui saldo ammontava oltre un milione di euro. Con lei sono state denunciate altre due persone imputate di usura, esercizio abusivo dell'attività creditizia e violazione della normativa antiriciclaggio. Ai tre si rivolgevano soprattutto commercianti e imprenditori, ma anche casalinghe, operai e pensionati. In tutta una cinquantina di persone che dopo il prestito si sono trovate in condizioni peggiori di quando l'avevano richiesto, tutti hanno dovuto infatti restituire il denaro con interessi del 200%. I fermati sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Alessandria, l'indagine non è ancora chiusa. Da Torino all'outlet di Serravalle Scrivia per rubare capi di abbigliamento del valore di circa 700 euro. Il tentato furto è stato sventato dai carabinieri di Serravalle che hanno arrestato tre immigrati peruviani. Si tratta di Yarina Alexis Diego Villodas di 19 anni, Benito Mussolino Vinelli Orsi di 23 e Flores Jocelyn Antonella Imenez di 19. I tre, dopo aver divelto le placche antitaccheggio, hanno rubato da due negozi del centro commerciale numerosi capi di abbigliamento, ma poi sono stati fermati dal personale di vigilanza e arrestati per furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Cambiamo argomento. Lodovico Simonelli, dopo 33 anni tra buste, pacchi e bollette, giovedì 30 settembre ha lasciato il suo banco da direttore della posta di Vinchio per farsi prete a 52 anni. Sarà ordinato sacerdote dal vescovo Monsignor Pier Giorgio Michiardi, domenica 21 novembre alle 15.30 nella cattedrale di Acquiterme. Era nato ad Asti ma ha sempre vissuto a Cortiglione, ha frequentato le medie alla Sacra Famiglia di Mizza Monferrato e l'istituto magistrale nel seminario di Acquiterme per poi iniziare la vita lavorativa nel postale e nel frattempo seguire i corsi di scienze religiose di Acqui e Alessandria. Domenica 21 novembre alla sua ordinazione sacerdotale parteciperanno due pullman di amici da Cortiglione e da Vinchio. E intanto domani alle 16 al complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo lo scrittore israeliano Amos Oz incontrerà il pubblico alessandrino, le istituzioni e le associazioni del territorio. La manifestazione è organizzata dalla provincia e dal World Political Forum. Autore di saggi, romanzi e libri per bambini, Oz è riconosciuto come una delle voci più importanti della letteratura mondiale ed è diventato una figura di primo piano del movimento israeliano per la pace. I suoi libri si nutrono del forte rapporto con la sua terra raccontando il popolo di Israele, i suoi travagli e la sua anima con un'attenzione particolare al conflitto in Medio Oriente e alle sue possibili soluzioni. E così per il momento dall'Alessandrino è tutto. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e la linea va allo studio. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e la linea va allo studio.